Buongiorno a tutti, è tempo d'estate, oserei dire oggi sabato 24 luglio è tempo di festa perché arrivati qui sul sagrato della chiesa di San Pio, la chiesa a cielo aperto, si ha la sensazione di festa perché ci sono diversi gruppi, ci sono delle famiglie, c'è un gruppo che arriva da Casalecchio di Reno in provincia di Bologna che ho qui a fianco ma aspetto un attimo a presentarli, alle mie spalle ci sono le ricamatrici di Isernia, c'è l'associazione del merletto di Isernia, poi ci sposteremo per scoprire che cosa stanno preparando, quindi davvero si ha la sensazione di una giornata di festa, una bella sensazione che speriamo arrivi anche ai tanti che ci seguono da casa su Padre Pio TV, siamo rigorosamente in diretta anche oggi, possiamo anche dire che oggi fa molto caldo ma credo non solo a San Giovanni d'Otondo ma in tutta Italia ma è l'estate quindi il bello dell'estate è anche questo, allora come promesso presentiamo il gruppo che è in pellegrinaggio qui oggi a San Giovanni d'Otondo, oserei dire un gruppo storico che non è mai mancato, un gruppo che arriva da Casalecchio di Reno, gli amici di Padre Pio guidati da Carlo, ciao Carlo, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno, grazie per la vostra ospitalità, non è poco, è anche un po' emozionante, mancando da due anni, sembra quasi che sia la prima volta, è tutto nuovo, è strano però forse c'è qualcuno o qualche stella che illumina, chissà. Che bello, che bello Carlo, allora raccontaci, il gruppo abbiamo anche qualche rappresentante, quanti siete oggi? Siamo in 35 esattamente, è già stato un successo enorme, causa anche le condizioni che ci sono in giro, insomma, sono molto contento, sono felice di aver fatto questo. Senti, una giornata a tipo di pellegrinaggio a San Giovanni d'Otondo, del vostro gruppo Amici di San Pio, come si svolge? Allora, io cerco di seguire il metodo che voleva Padre Pio, mi hanno insegnato anche a me e cerco di proseguirlo, facciamo la Via Crucis, fatta bene, meditata, come voleva lui, la Santa Messa, oggi abbiamo la Santa Messa nella chiesa a San Pio, e poi i luoghi vengono visitati anche con le vostre guide qua di San Giovanni d'Otondo, che ci detengono molto, che la gente che viene la prima volta, che veda veramente cosa ha fatto questo uomo, che ha lasciato a noi anche, i testimoni, e direi che questo è molto importante, insomma, ecco, fa parte anche di chi organizza, che non vengono così a fare una gita di viagere, insomma, e questo parte già con una condizione di spiritualità per venire qua, anche perché molta gente non l'ha conosciuto, insomma, e questo è molto importante, penso. Come dicevi, siete stati, come dire, bloccati, ma un po' come tutti, un anno e mezzo, due anni, quindi non siete venuti a San Giovanni d'Otondo, ma non avete mancato neanche un appuntamento con la città, con i luoghi che hanno visto Padre Pio qui presente, e eri presente anche nel 2004, quando è stata inaugurata la chiesa nuova? Ero qua anche proprio nel 2004, eravamo un gruppo di 50 persone, abbiamo assistito la Santa Messa, anzi ho avuto modo anche di conoscere Enzo Piano, mi sentivo anche importante, insomma, e poi abbiamo la manifestazione della sera, con il concerto anche di Morricone, è stato molto bello, i fuochi artificiali, insomma, tutto l'impatto nell'insieme, ecco, questo è il momento di queste manifestazioni, ha dato segno al gruppo di stare molto unito e partecipare proprio con orgoglio a questa cerimonia, insomma, è stato molto bello, diciamo, dei ricordi. Senti, l'altra parte del gruppo, che cosa sta facendo in questo momento? Stanno visitando, con la guida del nostro convento, tutti i luoghi di Padre Pio, insomma, ecco, anche se vengono rivisti, ma ogni volta c'è qualcosa di nuovo, anche perché un po' anche la, insomma, sei un po' sbadato, ti entusiasti di questa cosa, però vedo che la gente l'accetta volentieri, anzi è un momento importante questo, che la gente veda, riveda, che, insomma, è necessario, serve, oltre che la preghiera è anche un momento, anche questo, di cultura, perché, insomma, abbiamo bisogno anche di questo fatto e grazie a voi, all'impegno che fate con questo volontariato, che è molto importante. Grazie Carlo, io ringrazio anche alcuni rappresentanti di questo gruppo, è la prima volta che venite a San Giovanni Rotò? No, ecco, quindi, insomma, immagino, ecco, appuntamento fisso. La moglie è sempre seguito. Bene, grazie Carlo, grazie al gruppo Amici di San Pio e di Casalecchio e di Reno per essere stati con noi e allora, come vi dicevo, alle mie spalle, poi ci sposteremo con Roberto, ci sono, c'è l'associazione Merletto di Isernia, che si candida a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi dell'umanità, e stanno realizzando un padre Pio ricamato a tombolo, che poi doneranno ai frati il 23 settembre, in occasione della veglia di preghiera per l'anniversario della morte del santo di Pietrelcina. Non solo, stanno ricamando anche tantissime altre opere d'arte, è il caso di dire. Bene, detto questo, allora, oggi faremo un po', e lo dico, gliel'ho già detto prima, microfoni spenti, impazzire la regia, ma ringrazio Matteo per la disponibilità. Intanto noi tra un po' ci sposteremo in fondo per andare ad ascoltare e a sentire di che cosa si tratta davvero questa bellissima iniziativa oggi sul Sagrato della Chiesa di San Pio. Intanto andiamo ad aprire l'archivio della nostra emittente, le teche di Padre Pio TV, come ci piace dire, perché andiamo ad ascoltare la testimonianza, ancora uno stralcio di una bellissima testimonianza. Lui è Paolo Comparato, ha avuto la grazia di conoscere il santo di Pietrelcina. Allora, ascoltiamo che cosa ha da raccontarci, da condividere con noi. Un'altra volta, quando gli ho servito la messa, al termine si passava la mano, ma lo si passeva un po' frettolosamente, perché lui era già stanco. Allora noi, le donne magari erano diverse, perché quando la donna riprendeva la mano, molte volte, e sopra, e sotto, e sopra, e le loro baciavano, che delle volte diceva, e basta! Noi uomini eravamo magari più resti, non gli davamo tanto fastidio, no? Quel giorno invece, quando ho preso la mano e gliel'ho baciata, lui me l'ha afferrata e non mi lasciava. Non mi lasciava, proprio mi ha afferrato stretta la mano, proprio così. Lui mi ha guardato negli occhi così, non so se mi ha detto qualcosa. Io ho detto, ma sono rimasto proprio qualcosa che mi è entrata dentro, proprio. Però, se non sbaglio, lui non ne è vissuto molto dopo. Ho detto, questo forse è stato un saluto, un addio, chissà. Un altro ricordo è quando nella sacrezia, una bella giornata di sole, con un teleobiettivo, sono riuscito a farle una fotografia. Io ricordo quel giorno lui che, dopo aver fatto il ringraziamento, dopo la funzione, si è alzato per dare da baciare la mano agli uomini, proprio con un volto disteso, sereno, proprio si è girato così, di profilo. E io sono riuscito a scattare quella foto che è rimasto un ricordo, che poi è stata anche riprodotta. Per esempio, anche mio fratello, che si diletta un po', anche lui l'ha riprodotta, e un pochettino tutti quanti, ne hanno approfittato. Va bene, anche autorizzati, anche per dire, anche i padri Capuccini. hanno chiesto un permesso anche ai superiori di allora, per un calendario, ricordo. E da allora poi un po' si è diffusa. Io entro nei negozi, quando la vedo un po' dappertutto questa foto. Eccoci tornati di nuovo insieme, in diretta, con il nostro tempo d'estate, che il sabato si sposta sul sagrato della chiesa di San Pio. Giornata di sole, giornata calda, giornata di festa, come dicevo in apertura. Abbiamo ascoltato la bella testimonianza di Carlo, che coordina il gruppo amici di Padre Pio, di Casalecchio di Reno. Quindi approfittiamo per salutare la bellissima Emilia Romagna, davvero sempre presente nei pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo, e oggi invece, oltre alle Emilia Romagna, è presente anche il Molise, con il merletto di Isernia, perché il tombolo di Isernia si appresta a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi dell'umanità. E quindi, se la regia magari poi avremo modo di inquadrare meglio e di andare nel dettaglio, ci sono appunto le ricamatrici che stanno eseguendo a tombolo alcuni lavori. Io ho avuto modo, prima di vedere, prima della nostra diretta, ed è un lavoro, immagino, difficilissimo, quasi impossibile, per chi, come dire, è a digiuno di questo tipo di arte. Proprio un'arte. Qui vediamo alcune delle ricamatrici, anche che indossano gli abiti tipici del Molise, che stanno ricamando a tombolo. Quindi, magari, le tante telespettatrici che ricamano a tombolo e si interessano, sanno di che cosa sto parlando, capiscono perfettamente di che cosa si tratta. Quindi c'è questa piccola impalcatura, c'è questo cuscino e poi quest'arte davvero incredibile nel ricamare. Allora, noi dobbiamo avere adesso il tempo di spostarci un po' più giù, perché dobbiamo andare a vedere che cosa stanno ricamando le nostre amiche ricamatrici che appunto arrivano dai Cerni. Intanto proseguiamo con i ricordi, l'archivio di Padre Pio TV. Il prossimo contributo riguarda la testimonianza di Padre Eusebio. Ascoltiamo che cosa ha da condividere con noi oggi. Volevo vedere le stime dai piedi. Come facevo a vederla? Anche lì una strada gemma, era l'amo d'estate. Siamo alle 60. E quei tempi erano uscite per voi donne le calze di nylon, anche per gli uomini, per la verità. Mi procurai un paio di calzini di colore marrone, perché questi calzini da Londana, colore marrone, ma se ti metti i vicini sono trasparenti alle vostre gambe. E sto studio l'avevo fatto. Per cui io preparavo la biancheria a Padre Pio la sera e l'una notte si alzava e indossava quel che doveva indossare. Gli preparai i calzini. La mattina quando mi diceva, grazie figlio mio, come sono leggeri questi calzini. Contento? Disse la messa, giù alle confessioni, mese di Ducchi. Quando l'andai a prendere verso le 10, le 10 e mezzo, per andare su in camera, figlio mio, ma dove hai cacciato questi calzini? Sono un fuoco insopportabile. Ero diventato tutto calore per quei piedi, le stimati che aveva. Eh, ormai. Andavo in camera, dove quella poltona si dette lui, e io su quell'ingeno occhiatoio che è stato davanti a lui, mi incedì. Cercavo di soffiare a quei piedi, ma il mio scopo era di guardare. E vi magnificamente, due cose nere così, sopra, sul dosso del piede, a destra e a sinistra. La grandezza di un euro. Alle piaghe di due euro più grandi, alle mani, ma il piede due macchie nere così. Quindi in un certo passaggio, direttamente o indirettamente, ho visto anche queste piaghe che Padre Pio ha portato in quella maniera per 50 anni, poi come tutti quanti sappiamo, al momento della morte, scombarvero, senza lasciare nessun segno sul copo e compagnia. Questa è la santità di Padre Pio, però va, parliamo un pochettino. Accutivo alla corrispondenza inglese. Arrivavano lettere da tutte le parti del mondo, non soltanto dall'Inghilterra, dall'Irlanda, dall'America, e anche tanti altri stati scrivevano in inglese, non nella loro lingua. E io dovevo rispondere, chiedendo a Padre Pio i casi particolari. dopo che mi dava la risposta, io la comunicavo all'interessante. Ma una volta, voglio raccontare un fatto lepido, dall'America, arrivò una lettera piuttosto grande, tappezzata di ritagli di giornali. Pommamia. Vado a leggere, di affanno, I'm not a pretty girl, caro padre, non sono una, I'm a pretty teenager, sono una ragazzina di 12, ma non sono molto bella. E allora, mi rivolgo a lei, perché lei mi aiuti. Però, perché non ci sbagli, gli occhi, li vorrei come questa attrice, e portava da un ritaglio di giornali, gli occhi come li voleva, il naso come quell'altra attrice, la bocca, guarda che cosa aveva, non l'avrei mai pensato, è una cosa del genere. Mi venne da ridere, non dissi niente al Padre Pio, andai da lui, io gli ho offrì questa lettera, dico padre, questo è per lei, l'apre, e che cos'è qua? Dico padre, e questo è per lei, è una povera ragazza americana, e dice che non è troppo bella, e va cercando le sue preghiere, però perché non si sbagli, il naso deve essere così, gli occhi così, la bocca così, e lui mi fa, è del cervello che dice, no del cervello non dici niente, e risponda allora, che pregherò, perché mette il cervello a posto, tanto per dire, non per dire. E poi, anche se un canale lo vedo, il canale lo vedo, diciamo, questa cosa, il canale lo vedo, il canale lo vedo, e il canale lo vedo, la passata. Allora, quello che state vedendo, è il tombolo, e io sono in compagnia di Gerardo, dell'associazione, il merletto di Sernia, l'arte nelle mani, che mi ha già ripresa, perché quelle che state vedendo, non sono ricamatrici, ma sono merlettaie. Ciao Gerardo, vedi, ti accolgono anche le campane, dal sagrato della chiesa, di San Pio, benvenuti a San Giovanni Rotondo. Allora, che significa merlettaie, che differenza c'è con le ricamatrici, come ho detto io? Il ricamo è quello che si fa su stoffa, con il filo e il lago, invece loro realizzano dei veri e propri merletti, che si fa con una tecnica di fuselli, quello che voi adesso vedete, e loro hanno quel tombolo, che in dialetto di Sernino viene chiamato pallone, poi hanno quei fuselli di legno, che si chiamano tummarielli, in dialetto di Sernino, e con la tecnica, che è un intreccio coordinato, alla base ci deve essere un disegno, e con questa coordinazione dell'intreccio dei fuselli, viene fuori un merletto, e si può realizzare un qualsiasi cosa, sia parti raffigurative che disegni geometrici, come alla base, la particolarità del merletto di Sernia, rispetto ad altri merletti che si realizzano, è che non ha spezzature, cioè non si taglia in continuazione il filo, ma si inizia in un punto, e si finisce nello stesso punto, quindi è tutto un intreccio coordinato, seguendo il disegno, una linea continua, che rende poi alla fine, si stacca togliendo gli spili dal disegno, e viene fuori un merletto, che voi potete vedere alcuni lavori che ci hanno mostrato. Abbiamo visto del meraviglio, visto anche dei gioielli, chiedo al nostro operatore Roberto, di inquadrare appunto una delle merlettaie, che in dialetto molisano si chiamano? Pizzigliare. Le pizzigliare dice anche la signora, allora questo, dunque questo cuscino, come si chiama Gerardo? Il pallone lo chiamano, è un fatto di paglia naturale all'interno di un sacco, che poi viene battuto per renderlo rigido, applicando sopra il disegno in maniera tale, che è facile anche riuscire a togliere e mettere gli spigli, quando servono. Poi ci sono, man mano che si toccano gli spigli, si fanno le legature. E quelli arnesi che le nostre merlettaie stanno utilizzando con grande maestria, come si chiamano? Quelli siano fuselli in italiano, in dialetto e senino si chiamano tummarielli. Poi c'è appunto il disegno del merletto, che vanno a ricamare. Possiamo anche vedere alcuni lavori già realizzati, centrini, ricami, merletti per le tovaglie, per le coperte, anche delle cosiddette spadrias ricamate con il merletto, insomma, dei frontini, dei gioielli, una meraviglia. Sì, si può realizzare di tutto, da centri come accessori, gioielli, bavette per i bambini, centri per i comoi, si possono realizzare sia tovaglie da tavola, prima si portava nel corredo, dei pezzi unici come quelli del tombolo e quindi si facevano proprio di queste coperte bellissime. Poi vedremo più avanti, una signora sta realizzando il centro di una grande coperta che è anche molto bella. Allora, Gerardo, resta con noi perché sei la nostra guida indispensabile. Noi restituiamo la linea alla regia pochissimi istanti, facciamo una breve pausa pubblicitaria e poi torneremo ancora insieme. State con noi perché oggi, a tempo d'estate, il merletto di Sernia, l'arte nelle mani, da non perdere. Siamo tornati in diretta, a tempo d'estate, una giornata di festa, come vi dicevo in apertura. Oggi c'è l'associazione del merletto di Sernia perché stanno realizzando un ricamo dedicato al santo di Pietrelcina, appunto siamo sul sagrato della chiesa, a lui intitolata, perché il merletto di Sernia si candida a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO. Allora, ci ha raggiunto Fra Rinaldo. Noi cerchiamo di metterci distanziati per quanto possibile perché, caro Fra Rinaldo, pace bene innanzitutto, l'associazione vuole regalare ai frati Cappuccini, tu in questo momento sei rappresentante, una croce, un merletto, appunto, che rappresenta una croce realizzato da queste merlettaie. Sì, io veramente sono felicissimo di essermi trovato qui in questo momento perché già da giovane andavo ogni tanto a Isernia e vedevo sempre queste donne davanti all'uscio di casa che lavoravano, 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 con tanta maestria e anche con tanto amore perché penso che questi lavori si devono realizzare veramente con il cuore, con il cuore. E poi, ecco, credo che Isernia è collegato tantissimo ai frati Cappuccini. Non so, loro si ricorderanno senz'altro di un certo padre Giacinto, ecco, che è gloria nostra, no? Perché è di San Delia Pianisi. È di San Delia Pianisi. Ecco, e ha fatto tantissimo, tantissimo per Isernia e Isernia l'ha amato tanto e grazie a lui che poi ci ricordiamo che è stato anche delegato dell'amministratore apostolico qui, insomma, quindi è stato collegato anche lui tantissimo con padre Pio. Diciamo che la provvidenza, ecco, collega tante cose e loro, Isernia, hanno amato padre Giacinto e amano tanto i Cappuccini. Penso anche padre Carmelo da Sessano che è stato il guardiano di padre Pio, padre Eusebio Notte che è stato anche vicino a padre Pio. Ecco, ci sta veramente un collegamento bellissimo con padre Pio. Io sono felice di accogliere questo dono e auguro che Isernia come anche gli altri paesi lì vicino possano continuare ad avere questo patrimonio veramente nel cuore che queste donne, mi diceva una signora che questo ricamo è stato appreso da delle suore spagnole quindi da tanto tempo fa da 1400-1500 ecco, e che loro possano avere nel cuore sempre questa volontà di continuare e di dare a chi viene ora proprio la possibilità di apprendere e di custodire questi ricami. Bello, grazie, grazie a voi. Grazie a padre Rinaldo. Allora abbiamo la presidente dell'associazione la signora Carmela insieme alla signora Maria Grazia e a Gerardo che consegnano a padre Rinaldo a parte da mamma parte della mamma parte di mia mamma che non ho potuto avvenire la particolarità di questa croce è stata fatta da un'unica persona scusi padre è stata fatta dalla signora Minichiello Beatrice che attualmente è purtroppo malata e non è potuta venire anziana e la portiamo e la mamma della signora grazie 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 io da questo bacio bacio la croce che è la salvezza il segno della salvezza ma voglio dare un segno di gratitudine a tutte quante voi padre Rinaldo mettiti a fianco alle signore così abbiamo la televisione abbiamo anche qualche fotografo potete immortalare questo momento grazie mille un saluto caro alla mamma ecco l'assicurato della nostra preghiera del nostro ringraziamento e dicevo che possiate veramente continuare con tutto questo amore ci vogliono delle persone brave sagge e coraggiose per avere questi questi lavori e custodirli ecco grazie ai nostri amici che arrivano da Isernia ti consiglio di fare un giro per vedere stanno realizzando delle meraviglie noi intanto tutto questo è in diretta andiamo grazie pace bene padre Rinaldo perché l'associazione del merletto di Isernia è venuta qui a San Giovanni Rotondo non solo a mostrare queste meraviglie che stanno realizzando ma soprattutto a farci vedere questa quest'opera d'arte in diretta questo è il volto del santo di Pietrelcina che una volta completato ovvero Gerardo sarà donato ai frati Cappuccini il 23 settembre il 23 settembre purtroppo non l'abbiamo potuto realizzare subito perché devono lavorare parecchie ore al giorno in un mese per finirlo e lo regaleremo il 23 settembre in occasione dell'anniversario della morte di padre Pio ai frati Cappuccini Maria se glielo fai vedere com'è tutto il disegno mentre lo lavori Gerardo quanto tempo ci vuole per finire un'opera di questo tipo adesso per finirla per settembre devono lavorare dalle 5 alle 6 ore al giorno tutto il mese altrimenti non ce la facciamo come tempi poi Maria è anche una delle nostre maestre merlettaie abbastanza veloce molto brava e quindi penso che ce la faremo ma per il 23 settembre deve essere finito che bello questi strumenti qui come che si chiamano Fusselli è il movimento bello delle mani è simpatico padre Rinaldo ci stavano anche raccontando che loro hanno imparato quest'arte quando erano piccole avevano anche 5-6 anni purtroppo adesso manca come dire Gerardo il ricambio generazionale si manca il ricambio generazionale perché purtroppo le persone che voi vedete sono diciamo tutte persone che vanno dai 40 ai 70 abbiamo anche mellettai che hanno 80 anni che fanno il tombolo però le nuove generazioni stiamo cercando di coinvolgere ad imparare quest'arte grazie ciao pace e bene salutiamo a padre Rinaldo eccoci anche grazie a Gerardo che ci ha seguiti in questo nostro in questa nostra bellissima giornata davvero dedicata al merletto di Serni esiste un'associazione e abbiamo anche la sua presidente come abbiamo ricordato e Gerardo facciamo un saluto io chiedo alla regia di dirmi quanti minuti abbiamo ancora a disposizione così salutiamo gli amici di Sernia allora in conclusione oggi sarete qui appunto sul sagrato della chiesa di Sampio per far vedere insomma le bellezze di quest'arte un saluto in particolare che vogliamo lanciare a tutti i nostri telespettatori questa è stata la nostra prima uscita fuori regione perché con l'associazione dobbiamo sponsorizzare al massimo il merletto di Sernia e quindi portare fuori sia il nome di Sernia che il merletto stesso perché in tutti questi anni le persone hanno lavorato ognuno lavorava in segreto nella propria abitazione quindi per noi è stato il primo giorno siamo venuti dal santo di Petralcina perché siamo tutti devoti di questo santo per forza di cose perché ormai è entrato nella vita di tutti quanti noi e ci auguriamo che il Padre Pio venga con noi in tutto questo nostro camminare nel portare avanti questo merletto e vogliamo che rinasca in maniera bella nelle nuove generazioni e non muoia così non muoia mai no Gerardo ho dimenticato di chiederti una anche delle cose interessanti voi vi candidate a diventare patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO noi insieme ad altre città italiane stiamo partecipando a questo progetto di candidatura di patrimonio immateriale dell'umanità e segna una delle città che il tombolo è il più antico perché sta dal 1450 in poi ci sono delle prime cose scritte dove la regina Isabella d'Aragone era portoghese e si sposò con un re spagnolo e per regalo di matrimonio gli dite il contato del Molise il re e siccome lei amava adornare i propri gioielli i propri vestiti con tutti questi merletti si portò una delle monache e li fece stare in un monastero benedettino che già era presente a Esernia dall'anno 1000 e venendo queste monache a Esernia hanno iniziato poi come si succede in tutti i posti dove ci sono i monasteri le persone del vicinato mandavano le proprie figlie ad imparare l'arte del ricamo e del merletto che sono due cose diverse e quindi poi si è divulgata quest'arte diciamo preziosa nella popolazione esernina e oggi abbiamo meno male che è stato così perché poi andando via le monache l'arte è rimasta nel nostro territorio e le nostre donne le portano avanti che è un'arte diciamo che oggi anche io so fare il tombolo perché con il mio che è la Presidente ho imparato anche io e c'è anche Franco Salvucci che è il nostro maestro merlettaio lui ha proprio un titolo acquisito dalla scuola di Gorizia poi no scusami l'abbiamo incontrato prima andiamo dal maestro merlettaio perché ecco che non è non capita tutti i giorni di incontrare un maestro merlettaio titolato il signor Franco Franco Salvucci lei è maestro merlettaio che cosa sta realizzando? adesso sto facendo un cigno per l'albero di Natale che stiamo facendo nella sezione animali perché come già ha spiegato Gerardo questo albero dovrà essere tutto completamente a merletto e ci stiamo lavorando allora l'arte appunto del merletto come dire non conosce non è un'arte prettamente femminile ma maschile speriamo davvero che ci siano tante altre giovani ragazze che possano in qualche modo appassionarsi a quest'arte l'arte nelle mani allora grazie a Franco grazie a tutte le nostre signore pizziglia le pizzigliare ecco che arrivano dai Sernia dal Molise grazie Gerardo per essere stato con noi non so se abbiamo ancora qualche minuto a questo punto prima di fare una pausa un po' più lunga e di collegarci poi alle 11.30 con la chiesa di Sabbia abbiamo ancora tempo per un contributo per un contributo tratto sempre dagli archivi di Padre Pio TV lui è Don Pierino Galeone ascoltiamo cosa ha da condividere con noi è stato nel 1947 io ero ammolato di tubercolosi per denutrizione e da due anni facevo il primo motoraggio al 1945 al 1947 sui giornali venne la figura di Padre Pio subito dopo la guerra il quale faceva miracoli e il mio giudice del paese pretore del paese disse a mia madre ma perché non lo fai andare a San Giovanni Rotondo lì c'è un santo sai e la mia mamma come faccio a mandare mio figlio non sta bene lo porto io con la macchina mi porto a lui qui a San Giovanni Rotondo e andai in sagrestia mi incontra con Padre Pio ebbe subito un fascino eccezionale ma non dissi nulla del mio male e del motivo per cui ero di San Giovanni Rotondo perché lui mi guarisse stetti diverse settimane due o tre settimane sempre vicino a lui lui era amabile paterno sorridente ed io ero felice arrivo il giorno di andare via e allora lo salutai e lui mi mise la mano sul petto cominciò a fare così pensavo che mi sia stato accarezzare e invece lui girò subito la mano e girò ancora con la mano sul petto poi disse di tutto potrei morire eccetto di qua io sa quando Padre Pio parlava si contemplava il Santo ma le parole si capivano al momento poi sfuggivano tant'era la gioia poi disse a lui Padre guarda io voglio stare in seminario perché i superiore mi mandano a casa per un po' di tempo per potermi subito riprendere e continuare gli studi voglio stare tutto l'anno in seminario eh sì e stare tutto l'anno in seminario eccetto un mese oh disse io Padre no fammi stare tutto l'anno in seminario perché voglio diventare un buon sacerdote sì ma tutti i seminaristi d'Italia andranno a casa e quando da marzo aprile lui diceva questo il settembre del 47 al marzo aprile del 48 tutti i seminaristi d'Italia andranno a casa per le famose elezioni del 48 e dal 20 marzo al 20 aprile le elezioni furono il 18 aprile del 48 tutti i seminaristi d'Italia andranno a casa e ovviamente anch'io poi tornai in seminario ma chi sapeva tutta questa combinazione e fui felice poi dopo andai dal medico da quello che mi curava il quale mi fece la radiografia dice ma dov'è che l'ha avuto l'infiltrazione a destra o a sinistra perché non si vede dov'è che l'hai avuto evidentemente era così perfettamente guarita che non riusciva a vederlo ed allora vedi fino adesso sono passati 60 anni Paola 60 anni e vedi come sto e la sua mano la sua mano mi ha guarito e come ha detto l'amico Carlo del gruppo Amici di Padre Pio che abbiamo avuto nostro ospite in apertura di questa puntata mi auguro piacevole frizzante di tempo d'estate qui in diretta dal Sagrato della Chiesa di San Pio oggi è una giornata di festa perché quindi ritornare sul Sagrato così pieno di pellegrini di eventi di persone che hanno deciso di recarsi a pregare sulla tomba di Padre Pio davvero riempie il cuore e allora prima di collegarci alle 11.30 con la Chiesa di San Pio per la Santa Messa vogliamo ascoltare l'ultimo contributo previsto dalla scaletta di quest'oggi un giornalista è vissuto accanto a Padre Pio lui è Giovanni Gigliozzi eh sì eravamo io Piero Bellizzari credo forse anche Cinelli e andammo e devo permettere una cosa che una volta improvvisamente mentre era un tramonto e tornavamo dal convento verso le case San Gniti mi disse quando io sarò morto tu devi venire al Civitero e recitare sulla mia tomba il Cantico delle Creature perché non è una bella pagina di letteratura è una magnifica straordinaria preghiera io arrivo a San Giovanni Rodondo nella notte vedi i sanguinetti sotto il prone o della parte che ho subito già della casa e poi la mattina con questi amici andai al cimitero e lì laudato simi signore con tutte le tue creature poi torniamo al convento era stranamente deserto ci troviamo davanti al corso della chiesetta antica e c'era Padre Pio davanti al crocefisto che diceva se tu me l'avessi detto io te l'avevi strappato sembrava un profeta antico quasi con i capelli dritti se tu me l'avessi detto io te l'avevi strappato io rimasi sgomento ma chi è questo che parla così con Padre Eterno quasi da pari a pari insomma quasi litigando una cosa ordinaria e un'altra volta nel corridoio della scelta di Padre Pio c'era un tavolo di vimini sul tavolo di vimini c'erano dei giornali non so giornali forse l'osservatore o altro Padre Pio si soffermò un istante guardò la copertina di uno di questi giornali poi si portò le mani davanti alla faccia e gli disse Dio quanto sangue quanto sangue su quel giornale c'era una foto di Aldomoro ti soffermò non soffermò però sono ancora IL Grazie.